Le scelte chirurgiche estreme nel trattamento della brongei rappresentano un'ultima razza nel trattamento di queste patologie. Naturalmente è necessario un protocollo prechirurgico specifico e ben preciso per cercare di essere radicali nel trattamento delle patologie stesse e allo stesso tempo evitare il più possibile la possibilità di una ripresa o di una persistenza della malattia. Quindi noi abbiamo impostato un protocollo basato sull'imaging e sulla clinica ben specifico che mette in evidenza non solo l'osteonecrosi della determinata malattia ma anche il processo infettivo-infiammatorio che a nostro modo di vedere è determinante e va trattato così come la parte osteonecrotica. Questo per stabilire che le percentuali di successo sono legate appunto ad una radicalità dell'intervento stesso. Certamente questi interventi sono altamente demolitivi e non possono essere riservati alla totalità dei pazienti che osserviamo nella nostra pratica clinica ma ci deve essere una selezione basata anche su parametri diversi dalla patologia di base che comprendano l'età, lo stato di salute generale del paziente, le esigenze del paziente stesso, la permanenza o meno di funzionalità masticatoria dopo il setup chirurgico preventivato, vari appunto specifici parametri che portano l'atteggiamento del chirurgo verso una strada o verso l'altra. Sicuramente la fase iniziale del trattamento è da impostare, prevede sempre una preparazione, quantomeno una preparazione su base farmacologica e successivamente si passa a quella chirurgica. Qualora l'estensione della patologia o lo stato di salute del paziente non è così drammaticamente evidente è preferibile sempre impostare il discorso terapeutico su base farmacologica fin tanto che si riesce ad ottenere un buon controllo, soprattutto dal punto di vista delle esposizioni, dal punto di vista delle fistole infettive e infiammatorie e dal punto di vista della sintomatologia dolorosa. Grazie a tutti!